Adesso c'è anche l'ufficialità, Tommaso Ginobile punta alla carica di sindaco di Rosetta di Abruzzi. Sì, due mesi fa lo annunciai con una lettera, mi sono accorto di aver suscitato molta sorpresa. Per me è una cosa normale, tanti miei colleghi alla fine della loro vita politica, dopo aver assunto tanti ruoli importanti, decidono di mettersi a servizio della propria comunità. Ed è quello che io ho intenzione di fare, dissi che mi sarei candidato, accompagnato da quattro liste e quattro sono quelle che mi accompagneranno. Anche questa è la prima dimostrazione di serietà. Spero che sia una sfida sui progetti, sulle proposte, sulla capacità di mostrare il proprio attaccamento alla propria città. Mi accorto che qualcuno sta esagerando in una serie di mancanza di rispetto. Spero che questi non continui, ma io ho le spalle abbastanza larghe, continuano a mantenere questo profilo, come devo dire, istituzionale, rispettoso, soprattutto ai rossetani. Spero che qualcuno non esageri. La prima cosa è la mobilità. In questa cittadina, negli ultimi anni, si è dimenticato che si stava passando da una cittadina marinara ad una città vera e propria. Ed oggi queste disattenzioni si stanno mostrando in tutta la loro complessità, partendo dai parcheggi, dalla mobilità, dal traffico. Noi dobbiamo fare una città moderna che abbia silos per i parcheggi, che abbia una mobilità incentrata anche su qualche alternativa, partendo dalle piste ciclabili, che non devono essere solamente quelle al mare, un po' turistiche, ma una pista ciclabili che veramente attraversi tutta la città e che diventi sinonimo di diversità. E sarò pronto con chiunque, nel caso in cui i rossetani dovesse darmi il consenso, per confrontarmi al secondo turno a sfidare colui che occuperà che ruolo. Quindi è già proiettato al ballottaggio? A mio giudizio il numero delle liste non può che pensare realisticamente a questo. Insomma ci si conosce tutti, ci saranno centinaia di candidati. È importante anche rispetto al ballottaggio occupare la prima posizione in maniera anche robusta rispetto al secondo. Anche quello è il segnale del risultato al secondo turno.